Ciao a tutti, in questo video vedremo come lanciare il firmware, lo facciamo da un PC Windows, ma dovrebbe essere simile a un altro sistema operativo. In Windows solo bisogna installare i driver per il nucleo, che potete trovare sul sito produttivo. Questa procedura è valuta entro quando stai lanciando il firmware, per la prima volta, o quando bisogna upgradarlo. Iniziamo a collegare il board e il PC con un cavolo USB. Non bisogna portare il sistema, perché il board è portato da USB. Il nucleo board è visto come un device mass storage di USB, quindi lo apriamo. Per questo video downloadiamo l'ultimo binario disponibile dal momento dal nostro repository e lo salviamo nel PC. Poi bisogna copierare il binario nel nucleo, e sarà automaticamente lanciato nell'immagine di flash. Dopo che il firmware sia lanciato, normalmente facciamo un reset hard, utilizzando il pulsante di reset. il button. Per verificare che il firmware sia lanciato e funziona, otteniamo B, C, C e connessiamo al porto COM. Poi possiamo eseguire il DOLLAR I command dal terminal che mostra la versione build e la date e l'hour. del firmware. Il firmware non dovrebbe cambiare le impostazioni che si trova nel flash, ma potremmo vorrei verificare eseguire il DOLLAR 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 Se vuoi riloggiare le impostazioni principali del binario, potremmo eseguire il command DOLLAR RST DOLLAR Cuidate, perché con questa command tutte le vostre impostazioni saranno scritte con le impostazioni del firmware ... ... Grazie per la visione, abbiatevi, clicca la bellissima e stai attivati per il prossimo video. Grazie per la visione.